E' stata la dottoressa Lidia Dalfino alle 9.27 a dare il via al Vde in Puglia questa mattina nel Policlinico di Bari, la dirigente medico della rianimazione Covid. E' stata la prima a ricevere il vaccino prodotto dalla Pfizer. Dopo di lei è toccato ad altre due donne, una specializzante e un'infermiera. Un grandissimo sollievo e un giorno di svolta l'ha definito la dottoressa Dalfino dal Policlinico di Bari. Questa mattina sono partite poi sei auto, una per ogni provincia pugliese, per la consegna delle dosi. In tutto, nella prima giornata sono stati 505 i vaccini consegnati e somministrati, ma dai primi giorni di gennaio saranno oltre 95.000 le dosi disponibili, con 50.000 persone già registrate per ricevere volontariamente il vaccino. Oggi sicuramente è un momento importante, è un momento storico e oggi è un giorno simbolico. il giorno in cui l'intera Europa, quindi non solo il nostro paese, ma l'intera Europa riparte con un'arma in più contro il coronavirus. Non posso non dire di non essere emozionato e qui abbiamo messo su una macchina organizzativa importante. Partiranno sei macchine per le diverse sei province pugliesi e partiremo più o meno contemporaneamente in tutta la regione. è una data storica e anche un test per il nostro servizio sanitario. Una giornata simbolica, quella del V-Day, ma una giornata che tra i simboli ha annoverato anche la signora Maria Caldarulo, di 94 anni, che nella RSA Villa Giovanna di Bari, alle 9.52, è stata la prima donna ospite di una residenza per anziani a ricevere il vaccino. Si è detta felice ed emozionata la signora Maria, che ha rilanciato la necessità che tutti si vaccinino per proteggere più persone possibili. in uno dei luoghi simbolo della lotta al Covid. Villa Giovanna è stata una delle residenze per anziani più colpite nella prima fase della pandemia. Questa mattina, dunque, sono partite anche le vaccinazioni in queste strutture. Assieme alla signora Maria, altri 29 ospiti sono stati vaccinati. La signora Caldarulo è stata la prima ospite di Villa Giovanna ad aver firmato il consenso per sottoporsi alla vaccinazione anti-Covid. Grazie a tutti.